Un piccolo esercito prese ad assalto si fa per dire la città di Piedimonte Matese giovedì 15 settembre prossimo con l'inizio del nuovo anno scolastico con uno zainetto è il caso di dire pieno di buoni propositi per un voto più alto per un maggiore impegno nello studio e per una maturità per chi arriva a fine anno con un ottimo voto finale. Ci si augura anche una scuola migliore in termini di strutture dopo l'accelerata e perversa riforma scolastica strutture troppe volte lasciate al totale abbandono le lezioni inizieranno regolarmente quasi ovunque nell'alto casertano e a Piedimonte Matese la nostra Valentina Monte lo ha chiesto al sindaco della città Vincenzo Cappello. Sindaco gli studenti del comprensore matesino si apprestano a vivere un nuovo anno scolastico partiranno regolarmente le scuole? Sì per le scuole di competenza del comune tutto regolare lunedì inizierà la scuola media vitale e poi il 15 le altre scuole tutto regolare certificazione sia per quanto riguarda igienico sanitario per quanto riguarda anche la sicurezza degli ambienti scolastici una bella soddisfazione e poi devo anche dire che siamo in attesa di alcuni decreti regionali che dovrebbero arrivare a giorni e quindi iniziare anche i lavori in altre scuole. Infatti per quanto riguarda le scuole di competenza della provincia? Sì per quanto riguarda le scuole di competenza della provincia non siamo direttamente interessati però le seguiamo e monitoriamo. Lunedì ho un appuntamento con il presidente di Costanza di Costanza quindi per l'occasione approfitterò appunto di questa occasione per chiedere e informarmi ancora di più per le scuole provinciali. Non mi resta fare altro che un augurio ai ragazzi? Sì voglio fare il migliore augurio a questi giovani di Piedimonte ma non solo di Piedimonte anche perché come tutti sanno la città di Piedimonte e le scuole di Piedimonte ospitano i ragazzi non soltanto appunto della nostra città ma di tutto il comprensorio quindi faccio i migliori auguri a loro e ai loro genitori.